Sembrano essere arrivate ad una svolta le indagini per risalire i responsabili della morte di Lucia Furno. Dopo giorni di ricerca è stato individuato anche l'altro conducente dell'autopirata che ha investito la dottoressa. L'uomo è stato raggiunto da una notifica di indagini a suo carico. L'indagato è un sessantenne di Mercogliano. Nelle scorse ore erano previsti accertamenti tecnici irripetibili, sia per accertare la dinamica del sinistro e sia per fare i rilievi sul veicolo, in uso all'indagato ed ora sotto sequestro. Le indagini sono condotte dai pubblici ministeri Venezia e Toscano e non si è potuto procedere ad accertamenti tecnici irripetibili perché la difesa dell'indagato, il penalista Danilo Iacobacci, ha chiesto di procedere con un incidente probatorio. Quindi, ora, sia i rilievi sul veicolo delle tracce del sinistro, sia la ricostruzione della dinamica, saranno accertati da uno o più periti del GIP. Intanto è stato aperto un fascicolo ed è stato sequestrato, oltre alle due auto coinvolte nell'incidente, anche il telefono cellulare della dottoressa. La procura, guidata da Domenico a Roma, ha incaricato un consulente, l'ingegnere Alessandro Lima, per una consulenza sulla ricostruzione e la dinamica del sinistro. Le indagini sono eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. Gli uomini del colonnello Luigi Bramati hanno raccolto elementi utili, sentito testimonianze e visionato le immagini delle telecamere e la videosorveglianza pubblica e privata. In breve tempo è stato possibile rintracciare le due auto coinvolte nel sinistro. Da quanto emerso, solo una avrebbe provocato l'impatto che è stato fatale a Lucia Furno. Il conducente dovrà rispondere di omicidio stradale. I carabinieri intanto stanno cercando di risalire all'identità della persona alla guida dopo la denuncia per furto d'auto presentata dal 60enne indagato.